Come hai visto lavorare bene? La delega nei confronti di tutto il suo staff, il rapporto con i giocatori non lascia nessuno indietro, sta creando tutte le premesse per fare secondo me un gran bel lavoro. Partiamo dall'ultimo che secondo noi è uno degli attaccanti di maggiore prospettiva italiani, siamo contentissimi, avevamo già lavorato con lui nell'anno di B dove era appena maggiorenne, adesso ha qualche campionato in più sulle spalle. Credo ci possa dare una grandissima mano perché da un punto di vista fisico ha caratteristiche simili a quelle di Pavoletti e non avevamo in Rosa un'alternativa al Pavo. E poi può anche aiutarci secondo me come seconda punta perché ha dimostrato a Perugia l'anno scorso di essere anche un grande assist man, quindi credo sia proprio il profilo ideale che ci mancava lì davanti. Per quel che riguarda Castro non ha bisogno di presentazioni, credo fosse il giocatore più importante del Chievo degli ultimi anni, un giocatore che il mister ha fortemente voluto, siamo riusciti a prenderlo e già in questi giorni ci sta iniziando a deliziare. Quindi sarà probabilmente un centrocampo ancora più tecnico rispetto a quello dell'anno scorso, siamo contentissimi dall'arrivo di Lucas. Per qualche riguardo il ragazzino croato penso che sarà quello che poi ci darà veramente più di tutti a 360 gradi. Stiamo parlando di un giocatore che è stato per 15 anni capitano della sua nazionale, che ha scambiato il galliardetto con i 10 giocatori più importanti al mondo a centrocampo. E questo in questa comunità che è il mondo del pallone vuol dire tanto, è un giocatore che è riconosciuto nei cinque continenti e che qui a Cagliari saprà dare quello che manca a questa rosa. Ringrazio tutti i miei collaboratori perché credo che siamo riusciti quest'anno veramente ad andare increscendo. Siamo partiti giustamente con promozioni, eccellenza, ieri siamo passati alla Serie D, Serie B giovedì se non sbaglio, con la Cremonese. E poi si va increscendo con squadre importanti, le prime due in Turchia. Ci dispiace un po' di dover andare anche quest'anno così lontano perché chiaramente in Turchia non tanti tifosi ci potranno seguire. Però come sapete l'amichevole col Fenerbahce era all'interno di un accordo che avevamo fatto quando abbiamo ceduto Maurizio Isla in Turchia. Ci torniamo con grande piacere anche perché eravamo stati accolti alla grande l'anno scorso e perché quegli stadi sono degli stadi veramente caldissimi. Anche quello del Transbosport lo sapete bene che tipo di stadio è. Sarà bello andare dall'altra parte della città perché alla fine stiamo parlando dell'unica città nel mondo dove ci sono due continenti. Penso che anche da un punto di vista culturale andare il giorno dopo dall'altra parte del Bosforo sarà un arricchimento per i calciatori. E culminiamo poi con la grande amichevole casalinga con l'Atletico Madrid. Portare l'Atletico a Cagliari è un grande successo. Poter far vedere la squadra di Simeone ai tifosi sardi è motivo di grande orgoglio. E da un punto di vista tecnico credo ci aiuterà tantissimo per poi iniziare la stagione. L'anno scorso abbiamo iniziato con Juve e Milan e dovessimo iniziare con una grande squadra. Anche quest'anno sicuramente aver affrontato dieci giorni prima l'Atletico Madrid ci sarà di grande aiuto. Spero veramente di trovare uno stadio pienissimo perché sarà bello, sarà un bel evento Cagliari-Atletico Madrid. Stiamo lavorando con Sportium, come sapete. Abbiamo definito in queste settimane quella che sarà la capienza definitiva, che sarà una capienza di 25.200 posti. Stiamo lavorando su un possibile ampliamento a 30.000 in previsione di un eventuale europeo o comunque in previsione di una manifestazione internazionale in Italia in modo da poter essere uno degli stadi a quel punto poi eventualmente con 30.000 posti ad ospitare una manifestazione internazionale. Questi sono chiaramente passaggi che ci hanno portato in questi mesi a perdere un po' di tempo su quella che era la scaletta iniziale, però riteniamo siano passaggi fondamentali. Stiamo facendo un'opera, faremo un'opera che sarà probabilmente l'opera più importante costruita in Sardegna nel prossimo decennio e quindi non vogliamo sbagliare nulla. Crediamo che questa nuova capienza sia ancora più adatta a quelle che sono le ambizioni del Cagliari. L'investimento sarà evidentemente superiore, magari anche l'altezza dello stadio nel momento in cui sovesse portare a 30.000 e quindi questo ovviamente richiede un ulteriore passaggio in comune che faremo a settembre per poi appaltare ad ottobre il progetto esecutivo a Sporzio. Sicuramente limare quei passaggi a vuoto che abbiamo avuto l'anno scorso, cercare anche di fare partite ancora migliori in certi frangenti, per esempio due anni fa sono state troppe le goleade, quindi questi sono i due aspetti principali che dobbiamo limare rispetto alle ultime due stagioni, cercando chiaramente di arrivare alla quota salvezza il più rapidamente possibile e cercando di lavorare sul campo tutti i giorni per poi sfruttare quello che è la nostra caratteristica, cioè il grande senso di appartenenza che è quello che ci ha aiutato tantissimo anche a salvarci l'anno scorso, poter rappresentare tutto un popolo, essere una squadra nazione, è qualcosa che nessuno può oggi vantare, potrà vantare in Italia, però questo deve essere chiaro, ma a questo bisogna aggiungere un lavoro quotidiano sul campo che ci porti ad essere continui all'interno della stagione e affrontare tutte le squadre nel modo adeguato. Avevo citato prima in conferenza una frase di, avevo adattato anzi una frase di Coolidge che credo debba essere un po' il nostro mantra per quest'anno, cioè il fatto che nulla al mondo può prendere il posto della perseveranza, non può il talento, non può il genio, tantomeno non può prendere l'istruzione, ma bensì solo l'ambizione e la perseveranza possono essere onnipotenti e questo vorrei inculcare, vorrei che l'allenatore inculcasse nella mente dei nostri calciatori quest'anno. Ieri la tribuna era piena, io mi sono miscolato a loro a vedere la partita ieri, era pienissima e quindi è bello vedere che abbiamo tanto affetto anche qui in Trentino, così come in tutti i campi in Italia quando andiamo a giocare fuori casa e credo che questo motivi ancora di più i ragazzi a dare il massimo per fare una grande stagione.